se dovessi leggere la mia regina tra le donne dei 26 big probabilmente te ne dico due ti dico malika che secondo me pazzesca e ti dico veronica della rappresentante di lista che è una performer spero di aver risposto in maniera esaudiente grazie hai cantato anche meglio senza auricolari è ma mi sono cagato addosso sei stato grande sei stato molto meglio andato grazie ma la prossima volta spero di averci ma questa cosa però ti ha liberato molto sì sicuramente mi ha dato un piccolo mi ha dato un piccolo booster che ho detto no minchia non si può non si può sprecare questa occasione bravo bravissimo però ecco la prossima la voglio fare perfetta non ci voglio farla ancora meglio non vedo l'ora ci saremo venerdì per te che poi domani esatto vedo l'ora raga grazie di cuore per le vostre domande per il vostro tempo grazie a te sei gentilissimo grazie di cuore